Lamberto Boranga allora sport over 65 è utopia o è possibile veramente farla per tutti? No è un dovere farla per tutti magari nelle condizioni delle loro possibilità non tutti possono fare il master atletica leggera europeo e mondiale come faccio io perché io già ho un'esperienza di 50 anni giocavo prima calcio facevo la ragazza atletica facevo gli sport insomma a 360 gradi allora mi posso permetter di fare anche lo sport un pochino più impegnativo però camminata veloce bicicletta ho assistito bicicletta muscolare giocare a golf giocare a tennis per esempio sono degli sport e anche il nuoto sono dei sport che sono consigliati a quelli sopra i 65 anni Ecco cosa vuol dire stile di vita per chi fa sport over 65? Lo stile di vita non è una condizione solo per gli over 65 per tutti cioè non bere non fumare magliare l'indispensabile per la sopravvivenza come faccio io non esagerare l'alimentazione non tutti possono non tutti siamo uguali quindi ognuno ha le proprie abitudini i propri costumi io personalmente ho un'alimentazione estremamente parca perché le cose principali sono la pressione arteriosa e il peso se uno ha la pressione normale il peso normale naturalmente è invidiabile quindi c'ha una vita migliore è una vita che è uno stile di vita molto ma molto superiore ad attività Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti